L'Aula ha approvato tre mozioni per esprimere la propria contrarietà alla base di Coltano che dovrebbe ospitare alcuni reparti dei carabinieri. Il presidente Mazzeo ha chiarito che il dissenso riguarda la collocazione individuata ma possano essere trovate altre soluzioni. Le conseguenze del conflitto ucraino continuano a farsi sentire. Le ripercussioni economiche si manifestano nel rialzo dei prezzi e nella scarsità di materie prime. La risposta del Consiglio regionale è in una mozione ad hoc approvata all'unanimità. Sulla base di Coltano il Consiglio regionale ha tracciato una riga. In tre mozioni l'Aula ha espresso il proprio dissenso alla realizzazione del complesso destinato a carabinieri nell'area del parco di Migliarino San Rossore. L'obiettivo dell'Assemblea Toscana è soprattutto far comprendere che il divieto riguarda in particolare quella zona, mentre come ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo su altre soluzioni ci può essere apertura. Nell'atto presentato da Irene Galletti, passata all'unanimità, si impegna il presidente della Giunta regionale ad attivarsi immediatamente nei confronti del governo e del Ministero della Difesa per essere informato puntualmente sull'intero ITER che ha portato all'individuazione dell'area per la costruzione della struttura, come annunciato per mezzo stampa. Quello che era il nostro impegno era cercare di fare in modo che si arrivasse a quella discussione con una posizione chiara e tutta l'Assemblea legislativa oggi lo ha detto. La posizione era no ulteriori edificazioni nel parco. La base militare si può realizzare ma fuori dal parco utilizzando anche immobili, penso a quelli di proprietà della Regione che possono essere riutilizzati, riqualificati utilizzando altre caserme già a disposizione. Il nostro obiettivo era chiaro, oggi il Consiglio regionale su questo ha messo un punto, sono contento del lavoro che il Presidente Gianni ha portato avanti in queste settimane. Troppo spesso noi siamo abituati ad urlare, invece c'è un lavoro sotterraneo, importante, silenzioso a cui ho partecipato. Credo che questo sia il modo giusto di fare politica, dare risposte ai cittadini con un impegno a volte non urlato ma che porta ai risultati. Oggi questo è il primo passo per andare alla direzione, le cittadine e i cittadini di quel territorio che le istituzioni chiedono anche all'arma dei carabinieri. Quindi un bel passo in avanti e spero che insomma si possa proseguire in questa direzione. Così come è stato presentato questo progetto è apparso immediatamente irragionevole per i volumi e per come è dislocato. Qualcuno parla infatti in aula di un'area marginale del parco ma si tratta in realtà di un'area vocata a agricoltura biologica e soprattutto un importante cuscinetto tra il tessuto sociale ed economico del territorio e il parco, il parco regionale. Il fatto che questa proposta sia stata calata in maniera così improvvisa dall'alto non è piaciuto sicuramente agli abitanti neanche alle istituzioni e la regione toscana ha fatto bene a cercare una soluzione alternativa anche perché si andrebbe a parlare di 73 ettari di terreno vergine ad alto valore ambientale a fronte di quello che dovrebbe essere il gancio evocato, quindi la bonifica di 5 ettari anche meno di un'ex stazione radar. Quindi l'irragionevolezza anche a fronte dei molti immobili, dei molti edifici abbandonati nei dintorni è evidente. Tra i documenti promossi a maggioranza ci sono quelli illustrati da PD e Italia Viva. Il primo impegna la Giunta a intraprendere ogni azione utile al fine di avviare un confronto con il governo, in particolare con il Ministero della Difesa e con le autorità militari, teso a scongiurare un intervento fortemente impattante sotto il profil ambientale in un luogo soggetto a tutela. L'altro impegna ad attivarsi presso il governo e in particolare presso il Ministero della Difesa al fine di scongiurare la realizzazione del progetto infrastrutturale nella zona del parco, dato il suo elevato impatto ambientale e paesaggistico. Dubbi sono stati espressi anche da Diego Petrucci, che però ha invitato il Consiglio a mettere da parte la retorica. Noi apprezziamo la presenza e l'impegno e il lavoro dei carabinieri in Toscana e nella realtà pisana. Riteniamo però in sintonia con tantissimi di quelli che si sono espressi che questo intervento per l'impatto che produce sul territorio non debba essere realizzato all'interno di un'area protetta. E quindi chiediamo tutto l'impegno possibile al nostro Presidente e alle altre istituzioni affinché si adoperino in un confronto con le istituzioni governative per cercare di evitare che vengano occupati questi 73 ettari all'interno del parco di San Rossore per questa realizzazione. Io credo che questo potrà riuscire anche perché abbiamo molto apprezzato la disponibilità dell'arma dei carabinieri che ha detto di non voler comunque realizzare questo tipo di intervento contro le comunità locali e quindi con le mozioni che sono state approvate crediamo di rafforzare la posizione e l'impegno della Regione Toscana per andare in questa direzione. L'Italiavea per prima si è pronunciata contro la realizzazione di questo intervento nel merito alla localizzazione e all'utilizzo dei fondi del PNRR. Non è sbagliato di per sé migliorare il posizionamento dei carabinieri, fare un intervento importante ma bisogna decidere dove farlo, come farlo, passare da 53 mila metri quadrati a 730 mila metri quadrati in un parco come quello di San Rossore è una speculazione edilizia pubblica in un ambiente che deve essere invece tutelato, promosso e qualificato. Si può condividere dove fare questo intervento, meglio se farlo dove ci sono degli epifici dismessi che possono essere recuperati o dove ci sono dei locali abbandonati ma sicuramente non in un parco regionale che è famoso nel mondo per il proprio pregio di carattere ambientale. Quindi siamo contrari, bene l'approvazione del nostro atto per dare forza al Presidente Gianni per contrastare questo intervento. Noi intanto abbiamo detto fin dall'inizio che il Comune di Pisa deve essere coinvolto e deve essere centrale nella discussione tant'è che apprezziamo il fatto che stamani mattina il Sindaco di Pisa accompagnato anche dall'assessore all'urbanistica e dal Presidente della Prima Commissione siano al tavolo dove si discute di questo intervento insieme alla Regione, insieme all'arma dei Carabinieri. Quindi è un passaggio che riteniamo essere obbligato ancorché opportuno. Dopodiché pensiamo che proprio coinvolgendo il Comune di Pisa il Sindaco sarà in grado di individuare una proposta che possa tener conto di due interessi principali. Uno quello di salvaguardare l'ambiente e un intervento che possa essere in qualche modo troppo invasivo in un'area importante come l'area di Coltano. Dall'altra parte però salvaguardare il fatto che il Comune di Pisa possa ospitare un centro di eccellenza dove saranno appunto convogliati tre reparti di eccellenza fondamentali che sono un orgoglio nazionale quale il Tuscania, quale il GIS e quale il reparto dei Carabinieri Cenofili a Cavallo. Quindi siamo felicissimi che questi tre importanti reparti possono essere stanziati a Pisa che daranno ulteriore appunto motivo di orgoglio alla nostra città con un intervento che deve sicuramente essere in qualche modo rivisto, in qualche modo riallocato o contenuto rispetto al progetto iniziale. Un occhio all'economia è d'obbligo soprattutto se oltre a una crisi generale dovuta alla pandemia soffia forte anche il vento della guerra. La Toscana ne risente come il resto del paese e per questo motivo il Consiglio regionale ha approvato una mozione per affrontare le conseguenze del conflitto. L'atto impegna la Giunta a fornire al Consiglio in tempi rapidi e con cadenza periodica un'informativa esaustiva e dettagliata anche sulla base delle ricerche di IRPET, sull'attuale stato dell'economia toscana e sull'impatto che si presume il conflitto internazionale possa avere sul tessuto produttivo toscano. Ancora impegna la Giunta a valutare l'istituzione di una task force per monitorare i contraccolpi del conflitto sulle imprese toscane e per elaborare scelte strategiche. Il documento è stato promosso da Anna Paris ed Elisa Tozzi. Una mozione è stata una mozione realistica e quindi il Partito Democratico non poteva che condividerla e sottoscriverla perché presenta tutti i rischi, tutte le situazioni che abbiamo, i problemi che sono in questo momento presenti, ben noti, dal problema occupazionale che sta mettendo in gioco questa guerra, dal momento che abbiamo molte realtà aziendali purtroppo ferme per la mancanza di materie prime, il problema dell'esport, quindi poi tutto perché sappiamo quanto è importante per le nostre realtà produttive dalla moda e non solo l'esportazione, quindi problemi collegati all'esport e tutta una serie di situazioni di cui se ne prende atto, sono nella narrativa e quindi nonostante tutti questi importanti provvedimenti del governo chiediamo qualche cosa in più alla nostra giunta, alla nostra regione e non si possono ne condividere e gli interventi più importanti è di prendere atto del grande lavoro che fa IRPET e Toscana. È l'impatto di ciò che sta accadendo sul tessuto socio-economico della regione toscana, quindi questo è sicuramente importante monitorare ciò che sta accadendo. Dall'altro noi chiediamo però che ci siano anche delle azioni forti di sostegno, prima di tutto al settore delle filiere agroalimentari che naturalmente in questo periodo stanno soffrendo, pensiamo tutti quanti alla vicenda degli allevatori e delle quote latte, c'è una questione centrale che è l'autosufficienza energetica, il rapporto IRPET parla chiaro, regione toscana ha un 25% di autosufficienza energetica, quindi anche sotto questo aspetto sia a livello nazionale ma anche regionale tanto si può fare, penso alla geotermia ma penso anche alle misure sull'agrifotovoltaico che sicuramente possono favorire a livello anche del settore agricolo l'autosufficienza. Dall'altro lato la questione dei distretti industriali dell'energia, quindi la partita delle comunità energetiche che questa regione deve giocare ancora, magari con una proposta di legge ad hoc sulla quale stiamo anche lavorando. Dall'altro la questione occupazione, lavoro, impresa, sostegno al sistema sono elementi essenziali, riuscire a lavorare sul fronte delle politiche attive e quindi a sfruttare anche tutto il programma delle garanzie occupabilità dei lavoratori crediamo che sia diciamo un tassello primario, è chiaro che tutti questi aspetti devono lavorare in modo sinergico con una programmazione e con una visione. La mozione è stata approvata all'unanimità, anche se ognuno ha dato le proprie declinazioni. Francesco Torzelli si è concentrato sulla necessità di rinegoziare il PNRR, mentre Irene Galletti ha posto l'accento sulla necessità di fare attenzione alle speculazioni sulle materie prime. Io oggi sono profondamente deluso dalla discussione in Consiglio regionale. Noi abbiamo affrontato una discussione su un atto che è stato modificato credo almeno tre volte nell'ultima settimana prima di arrivare in aula e che è un tema, un atto proposto dalla collega Tozzi estremamente utile e importante, cioè affronta tutte le conseguenze che il conflitto russo-ucraino ha sulla regione toscana dal punto di vista economico, perché oltre a quelle gravissime da un punto di vista umanitario, i profughi, gli aiuti economici, gli aiuti alle popolazioni in guerra, vi è anche un impatto economico drammatico su tutto l'Ovest europeo e sulle Zali e sulla Toscana. La Consiglia Tozzi parla di temi importantissimi, l'autosufficienza energetica, la tutela della filiera agroalimentare, l'utilizzo dell'energia rinnovabile in Toscana, tutto molto bello e tutto molto utile. Noi abbiamo chiesto soltanto una cosa, di inserire due righe che trasformassero questo bellissimo, l'ennesimo bellissimo libro dei sogni in qualcosa di attuale, perché tutto questo è attuabile, la difesa della filiera corta, dell'agroalimentare toscano, il raggiungimento dell'autonomia energetica, tutto è raggiungibile se e solo se l'Italia insieme agli altri paesi europei, perché il tema riguarda tutti, riescono a ricontrattare il PNRR. La mozione, così come è stata presentata in rivista, pare essere una mozione un po' contenitore, cerca di attraversare tutti gli argomenti che possono essere toccati, investiti dall'attuale conflitto in corso. Abbiamo alcune perplessità riguardo alcuni argomenti che sono state sollevate riguardo l'impatto economico, che in realtà in questo momento viene ben misurato da IRPET. Dobbiamo fare molta attenzione alle speculazioni, sicuramente, specialmente nel campo dell'energia e delle materie prime, e bisogna cercare di capire come recuperare la nostra indipendenza per i prodotti, per i servizi, per le materie, compresa l'energia, che ci servono di più, nell'ottica non soltanto di questo attuale conflitto, ma anche nell'ottica della maggiore prossimità dell'approvvigionamento delle risorse, che è uno dei pilastri che è previsto anche dall'Unione Europea per il prossimo settennato. Significa andare nell'ottica della transizione ecologica, della maggiore resilienza, ma soprattutto da parte dell'indipendenza. Quindi necessario fare delle valutazioni, ma che siano ben misurabili per far sì che non ci siano degli allarmismi immotivati e quindi conseguenti magari rialzi di prezzo che sarebbero mere speculazioni. Grazie a tutti.